Luca Scacchioli, in questo nuovo ruolo, possiamo dirlo, coordinatore generale? Sì, all'inizio sono entrato come collaboratore aerotecnica, poi mi è stata proposta questa cosa, a dire il vero, da un po' di tempo e ultimamente si è un po' definita. Diciamo che questi mesi da qui alla fine sarà una fase di ruolaggio, mi auguro, non troppo complicata perché di cose da vedere ce ne sono molte, e poi per essere un po' più pronto l'anno prossimo. Cosa ha ancora da imparare Scacchioli? Imparare tutto, nel senso che questa è una categoria, professionismo puro, poi in prospettiva l'anno prossimo si parlerà di C unica, quindi bisogna avere una professionalità ancora superiore, e quindi ci sono tante cose da vedere con un occhio un po' diverso, un occhio professionistico, sia a livello di contrattualistica, di rapporti esterni con la stampa, con i giocatori stessi, è tutto nuovo, sembra il calcio, ma è vero che c'è tempo, bisogna andare a fondo su ogni singola cosa, quindi con tranquillità, e spero che da luglio di essere sempre un po' più pronto. Sono fiducioso perché per me il calcio è una passione, però va fatta tenendo in considerazione tanti aspetti, e c'è bisogno anche di un po' di esperienza, che in questo momento devo cercare di sfruttare, come dicevo prima, gli ultimi mesi, questi mesi a disposizione, pure perché gli aspetti tecnici dovrebbero essere abbastanza definiti, e dovremmo avere una tranquillità, mi auguro che ci possa permettere di sviluppare altri aspetti. Pure perché dal punto di vista tecnico, con Marcello e Giuseppe, che è stato riconfermato la settimana scorsa, con la conferenza del Presidente, credo che già dalla prossima settimana possa iniziare un lavoro in sede anche di riprogrammazione per l'annata successiva, e poi dalle prossime domeniche credo che si concentrerà a visionare altri giocatori, a vedere altre squadre, credo che abbandoni un po' il termo dal punto di vista domenicale, quindi siamo abbastanza tranquilli.